salve oggi preparerò boccongini di carne nella mia quadrotta di terracotta ho messo i pezzettoni di carne surgelata nella quadrotta di terracotta ho aggiunto l'alloro il sugo diversi aromi ho messo il timo il pepe il sale e ho aggiunto cipolla e aglio vado a mettere anche un po d'acqua per far cuocere meglio la il mio i miei bocconcini di carne quindi circa mezzo bicchiere d'acqua copro con il mio ottimizzatore e lascio cuocere a fiamma alta per 10 minuti dopo dieci minuti il mio spezzatino è già perfettamente scongelato vado a ricoprire e lascio cuocere altri 20 minuti a fiamma medio bassa sempre con l'ottimizzatore adesso il mio spezzatino e i miei bocconcini di carne sono pronti grazie alla prossima video ricetta